Il contagio dovessero aumentare e lei sarebbe d'accordo a un lockdown esclusivamente per i non vaccinali? Queste sono misure politiche e io sono un medico. Ma lei cosa ne pensa? Potrebbe avere un senso? La mia opinione è quella di un cittadino. Io sono un medico e parlo di questioni scientifiche. La decisione, io quello che dico è che è molto importante che tutti si vaccinino e che chi deve fare la terza dose faccia la terza dose. Come fare per far sì che questo accada o cosa fare se questo non accade non è compito della scienza, è compito della politica. Secondo lei l'obbligo vaccinale però migliorerebbe la situazione? Le ripeto, questa è una misura politica e io non faccio in politica. Però da cittadino? Io non parlo da cittadino, sono il professor Burioni, qui mi hanno chiamato perché sono un esperto di virologia e non perché sono un comune cittadino. Lascio ai politici la decisione politica. Ma secondo lei il coraggio di intreprendere questa decisione? Questa è una mia opinione che non conta niente, io mi rimango sui fatti della scienza. Ripeto, quello che pensa il cittadino Burioni è di minima migliaia. Ma in fatti della scienza ci dicono però che l'obbligo vaccinale è inutare molto in questo momento? La scienza ci dice con certezza che il vaccino è estremamente sicuro ed estremamente efficace. E la scienza ci dice che se tutti si vaccinassero sarebbe una situazione molto migliore. La scienza non ci dice qual è il modo migliore per fare vaccinare le persone.